Sviluppare e accrescere le conoscenze critiche e le competenze nel settore cinematografico con un focus tematico sull'ambiente, mettendo al centro i più giovani, gli studenti, i pugliesi e i lucani in questo caso, coinvolgendo le scuole. E questo è lo scopo del progetto Greenland, partito a dicembre 2022, promosso dalle associazioni alle Lammi, Ente Capofila e della APS, la prima attiva nel settore cinema ed educazione all'audiovisivo, la seconda sui temi della sostenibilità e della rigenerazione urbana. Quali i processi del progetto? Tre fasi, una fase di trasferimento di conoscenze di linguaggio cinematografico. Successivamente i ragazzi sono stati invitati e guidati ad una fase di scrittura creativa, individuando incipit di soggetti, tematiche. Queste sceneggiature poi saranno spogliate nel gergo e i ragazzi avranno la possibilità in una modalità residenziale, sotto forma di campus, nella provincia di Matera, nella zona di Pisticci, Craco, nel cineparco Tilt, avranno la possibilità di fare la film production. Nelle date del 23, 24 e 25 marzo si alterneranno attività teoriche e pratiche di film production durante le quali gli studenti si metteranno alla prova. La fase finale del progetto poi chiude la filiera del cinema con le attività di film promotion e la realizzazione a Taranto presso la biblioteca civica Pietro Acclavio della prima edizione della Greenland City Fest nelle giornate del 3, 4 e 5 maggio. Il progetto è stato pensato per connettere i territori di Puglia e di Basilicata, ma nello specifico di far incontrare gli studenti delle scuole che noi ringraziamo naturalmente e che hanno aderito a questo progetto. Quante scuole e di quante città? Le scuole coinvolte sono cinque, abbiamo due scuole lucane e due scuole pugliesi, nello specifico ci sono due scuole di Taranto e una scuola di Matera e di Montalbano Ionico. E poi, come vi dicevo, abbiamo anche allargato a questo istituto comprensivo allargando un po' il territorio a Torre Santa Susanna in provincia di Brindisi.